Padova, come tanti altri comuni italiani, decide di non far più attendare e quindi fermarsi per degli spettacoli circhi che hanno animali, ma altri circhi senza animali sono benvenuti. Io credo che sia una scelta di civiltà e anche che recepisce, oltre che una linea programmatica di questa amministrazione, ma recepisce un sentire comune da parte dei cittadini. Ci sono quelli che non sono interessati a queste problematiche, ma quelli che lo sono, sono sicuramente molto sensibili e si sa che gli animali non vivono sicuramente in un contesto a loro naturale, non vivono in un contesto anche come clima, pensiamo a tutti gli animali che provengono dall'Africa, in un clima sicuramente a loro consono e soprattutto sono chiusi e legati tutta la vita in queste gabbie per poi solletticare, come dire, gli interessi di cittadini, magari anche bambini, che sicuramente non vengono ben educati in questo senso alla sensibilità verso il mondo animale, che va visto e conosciuto in maniera diversa, in contesti diversi da quelli del circo. Sappiamo di tanti circhi, sicuramente non quelli che sono venuti a Padova e quindi non ci sono accuse specifiche, ma molti circhi dove i maltrattamenti sono stati molto gravi nei confronti degli animali, mi pare che si possa avere un'offerta circense senza la presenza di questi animali. È una decisione politica per adesso, gli atti sono quelli della modifica del regolamento sulla tutela degli animali e che arriverà in giunta a breve e dopodiché la porteremo anche in Consiglio. Siamo convinti che in Consiglio ci sarà una larga condivisione, anche trasversale politicamente, su questi temi non c'è colore politico, c'è una sensibilità comune che credo sia trasversale.